Se guardiamo agli ultimi dati sulle entrate programmate dalle imprese italiane a cominciare dall'inizio del 2024 ci rendiamo conto di come le prime professori richieste dalle imprese siano profili STEM, vale a dire scientifico-tecnologici, ingegneri, elettrotecnici, meccanici, sanitari, progettisti solo per fare alcuni esempi. Ebbene per questi profili le difficoltà di assunzione superano il 60% con una crescita costante da mesi. Per invertire questi numeri e anche per riallinare un gender gap elevato nelle materie scientifiche parte oggi fino all'11 febbraio la prima settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche le STEM in buona sostanza istituita a novembre scorso dalla legge 187 del 2023. Diverse le iniziative in Italia, ne parliamo con la professoressa Donatella Caniani docente di ingegneria sanitaria ambientale all'Università degli Studi della Basilicata. Buongiorno e grazie di aver accettato il nostro invito. Buongiorno, grazie a voi dell'invito. Allora, un'introduzione che ci fa comprendere di quanto sia importante incentivare i giovani a iscriversi a università scientifiche, a non abbandonare gli studi, a proseguire in questo percorso che offre tantissime opportunità di lavoro con un accento particolare alle donne. Sì, certamente. Come diceva, quando parliamo di futuro, innovazione, progresso, parliamo anche, certo non soltanto, ma anche di discipline STEM, scientifiche, tecnologiche. Per quale motivo è stata istituita? Perché ormai ancora rimane costante negli anni sul totale la percentuale di iscritti ai corsi di laurea STEM, parliamo del 30%. Tuttavia, sono le ragazze a soffrire di più di questo divario sulle competenze scientifiche e tecnologiche, divario che inizia molto presto, inizia già alla scuola primaria e poi si trascina per tutto il percorso di studi successivo. Proprio qualche giorno fa ho incontrato una scolaresca di una scuola media inferiore a cui ho chiesto chi di loro amasse lo studio della matematica, ecco, soltanto il 5% dei ragazzi e delle ragazze hanno alzato la mano. Le donne rappresentano, nonostante rappresentino più della metà dei laureati, in realtà soltanto meno del 20% è laureata in materie scientifiche e la percentuale cresce, ma troppo lentamente. E proprio per questo l'Università della Basilicata, così come gli altri Atenei, grazie anche all'introduzione di questa settimana delle STEM, è continuamente impegnata attivamente per promuovere le materie STEM, è impegnata assieme agli istituti di istruzione secondaria alla costruzione e allo sviluppo di diversi progetti, ad esempio progetti lauree scientifiche, i licei matematici, ma l'offerta anche di numerosi percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, i cosiddetti PCTO, nell'ambito delle STEM. Voglio soffermarmi su alcuni progetti in particolare, il progetto che provocatoriamente è intitolato NERD, non è roba per donne, è rivolto specificatamente alla sensibilizzazione delle studentesse verso le materie STEM. Infatti il progetto NERD, proposto da Unibus per questa volta il terzo anno consecutivo, ormai alla decima edizione, in collaborazione con IBM, nasce proprio con l'obiettivo di trasmettere alle studentesse delle scuole secondarie e superiori, terzo, quarto e quinto anno, la passione per l'informatica, le competenze digitali e anche per sensibilizzare le ragazze ad intraprendere le carriere STEM. C'è fame di queste competenze, professoressa, purtroppo il nostro tempo a disposizione è terminato, ma proprio per virtù di questa settimana, se le vorrà, torneremo a occuparci di questo. Abbiamo proprio deciso di organizzare uno spazio quotidiano per parlare di questo, perché ce n'è bisogno e c'è fame di queste competenze. Va benissimo, vorrei soltanto invitare i ragazzi e le ragazze a collegarsi al portale dell'Unibus, in particolare www.orientamento.unibus.it dove troveranno tutte le informazioni. Grazie. È un'informazione preziosa questa, ci risentiremo allora, grazie alla professoressa Donatella Cagnani.